Allora, come preannunciato, ripartiamo dalla seconda parte della conferenza stampa di Angelozzi, dove il direttore sportivo del Bari parla del futuro societario e della possibile cessione di useclep, praticamente, nelle prossime ore. Vediamo. La società si muove sempre, la società è sempre a 360 gradi, anche se qualcuno pensa che non si muove. La società si muove, si guarda attorno, si sta cercando di migliorare determinate cose, piano piano si lavora e si va avanti. L'ha detto il Presidente l'ultima volta che è stato qua, di là lui è amareggiato perché dice, insomma, se dovesse succedere la decisione non è bello. Ma col Presidente, insomma, ho un rapporto buono, cioè, lavoriamo, per cui, sinceramente, non mi sono posto mai questa domanda, non neanche ci ho pensato, cioè, io lavoro a 360 gradi, per cui, io penso se rimane in Matarese, perché bisogna vedere, il rapporto, c'è di stima, di, c'è proprio, neanche ci ho, non ci ho pensato minimamente, sto lavorando, per cui lavoro e porto avanti quello che c'è da portare avanti. Ho richieste di giocatori che uno magari, vedi Baredo, sta infortunato e viene richiesto, al Mirono c'è richieste, ma se c'è le richieste ce l'hanno, per cui, però, devo dire pure che se qualcuno pensa che magari può andare via facilmente, se mi accorgo che non c'è quell'impegno in queste 12 partite, può rimanere pure a Bari, cioè non è detto che Bari può dare via il giocatore, perché il Bari, se vuole, può tenere pure il giocatore. Personalmente per me è un giocatore forte, però, se no, sinceramente non facevo spendere una cifra al Bari, e solamente che, quando è dieci giorni che sta qua, quindici giorni, pure lui non è, capisco che non parla l'italiano, però, insomma, il calcio sa giocare, e anzi vi dico una cosa, non lo so se il ragazzo accetta, perché c'è sempre quella famosa squadra russa che lo vuole, se lui accetta perché gli fanno un contratto da Nababbo, se c'è l'opportunità lo vendiamo, ma se non deve giocare lo vendiamo, sempre se il Presidente mi dà il permesso. E noi abbiamo due richieste di squadra russa per due giocatori. A me l'altro e a Bari? Vi lascio, no, Baret lo vogliono pure in Russia, sì, perché lì in mercato, e poi penso che l'anno prossimo pure un altro giocatore può andare in Russia, quello lo diciamo più avanti. In caso di dire, i russi salverebbero i Bari, perché tenerci tanti giocatori che poi sul libro paga, tu immagina Barreto, Barreto più o meno la squadra la trova, dovessi andar via Almiron, che a mio avviso a quelle cifre farebbe fatica adesso a trovare squadra, perché io capisco che Angelozzi deve anche un po' bleffare e dire che questi giocatori li vogliono, però io sfido in questo momento, dopo una stagione piena di guai di Almiron, Non tanto per il costo del cartellino, ma per il costo dell'ingaggio. Uno e due stagione, ricordiamo. Sei d'accordo? Sì, sì, sono d'accordissimo. Può essere che dalla Russia ci sia chi ha tanta voglia di spendere danaro, quindi è un altro discorso. 080-501-9998, stavo parlando di Ultras prima, vi ricordo che domattina gli Ultras, con una delegazione dei giocatori del Bari, andranno a donare quanto raccolto per l'orfanotrofio di Vercel sul Piani, domattina alle 9 e mezza, vi do questa notizia, perché segnaliamo sicuramente un bel gesto da parte loro. C'è un amico in linea, pronto? Ciao, sono Mario. Ciao Mario. Saluto l'ospite anche. Salve, ciao Mario. Senti, è soltanto una mia riflessione personale. Io ho ritirato tutte le scommesse, perché avevo scommesso che il Bari si salvava, però è una condizione che rimaneva avventura. Questo è soltanto un mio pensiero personale. Poi un'altra cosa, non lo so, secondo te in trasmissione non c'è molta pubblicità, perché noi vogliamo cercare di parlare con voi per avere notizie, eccetera, ma tanta pubblicità, solo questo. Ciao, grazie. A limite, la pubblicità non si... è come cacciare un cliente, insomma, non credo che in nessuna attività si possa mandare via un cliente. A limite si può pensare di allungare la trasmissione, magari farne un quarto segmento da un quarto d'ora, però ne devo parlare con la proprietà, ovviamente. Magari qualche volta si potrebbe anche fare, non so, lunedì e venerdì due Tibisport da un'ora, credo che no. Magari devi pensare pure tu a programmare, se non per l'anno prossimo, per i mesi prossimi. Devo programmare anch'io a 360 gradi. Allora, 080-501-9998, non so se abbiamo modo di prendere un'altra... Sì, possiamo prendere ancora delle telefonate, possiamo ancora sentirvi. Allora, Giancarlo, dicevamo che qui fa bene Angelozzi a dire che i giocatori... Però, diciamolo pure, il Bari rischia un crack pazzesco, perché al di là dell'elettrocessione portarsi a rimorchio il fardello di questa stagione sarebbe davvero terribile, a meno che, come dice Angelozzi, molti giocatori del Bari non abbiano mercato, che sarebbe già, no? Sì, sarebbe una buona cosa, anche perché il Bari ha una quindicina di elementi sparsi nella... So che hai fatto un monitoraggio molto attento... Tra la prima e la seconda divisione della Lega Pro, soprattutto in prima divisione la maggior parte, ci sono degli elementi che in serie B potrebbero far bene. Marotta, Galano... Marotta, Galano, poi c'è Bellomo, poi c'è Piano che gioca nel Gela, che è stato a noi Cattaro l'anno scorso, poi c'è Tarantino che gioca a Pavia, che è un 90 che può fare sia il centrale di centrocampo che il centrale difensivo. Sta facendo bene Piccini anche. Piccini anche alla Lucchese, però è anche lui un 87, mi pare. E poi ci sono due difensori che stanno andando bene, c'è Pitelli, quello che è stato acquistato dall'Andria e lasciato all'Andria, che è un secondo semestre 89, e poi c'è Conti che è un romano dell'87 che prometteva molto in primavera, si era un po' perso e che sta andando molto bene nel Como. Devo dirti, mi mette un po' di tristezza per pensare a questa storia, perché è come tornare indietro, sono storie già vissute. C'è un amico in linea, pronto?